Il ticchettio dell'orologio, oggi parliamo di orologio biologico, l'orologio si sa e beh insomma voglio dire il funzionamento di tutta la nostra giornata e beh oggi in realtà parliamo del nostro orologio interiore sembra una cosa quasi scontata invece è una macchina perfetta che serve a capire quando prendere per esempio le medicine oppure quando mangiare qualche alimento. Di questo orologio biologico parleremo, è ben tornato a trovarci il professor Roberto Manfreni ben tornato, professore, docente ordinario di medicina interna all'università di Ferrara vogliamo capire un po' di più di questo orologio biologico siamo una macchina perfetta, il buon Dio ci ha creato davvero molto bene allora oggi daremo degli spunti molto interessanti che ancora prendere determinate medicine e a che ora magari andrà a letto e mangiare però l'abbiamo vissuto un po' anche la settimana scorsa sabato e domenica siamo passati dall'ora legale all'ora solare e questo ci ha un po' destabilizzato ma cosa c'entra l'orologio, professore? Beh, quello che abbiamo subito in questo weekend uso il termine subito ma naturalmente senza voler esagerare è un mini jet lag, è un mini fuso orario perché la nostra organizzazione dell'orologio biologico principale, quello nel cervello, ma poi ce n'è uno in tutti gli organi è regolato dall'alternanza luce-buio si chiama circadiano, la rotazione della terra impiega circa 24 ore e un pochino più di 24 ore quindi il nostro organismo ama le giornate un po' più lunghe di quelle un po' più corte quindi questo ultimo è stato il più benigno, se vogliamo, dei cambi di fuso perché abbiamo allungato la giornata dormendo un'ora di più quindi c'è qualche scompenso per la luce, per il buio, perché viene buio prima però siamo ormai, passati alcuni giorni, è passato Allora, questi meccanismi, questo meccanismo molecolare che fa bene, perché deve essere perfetto proprio perché noi siamo delle macchine perfette è valso anche un Nobel per la medicina nel vicinissimo 2017 questo è importante perché proprio gioca un ruolo chiave per il nostro benessere è vero professore? Certo, perché ogni essere vivente, non solo l'uomo è regolato dai ritmi circadiani, dai geni clock dal genio che ha scoperto, i colleghi americani che hanno vinto il premio Nobel quindi da miliardi di anni, da quando esiste la vita sulla terra è organizzata secondo il sistema circadiano adesso ormai conosciamo, ci siamo addentrati nella mirologia molecolare nella genetica, ma è la vita di tutti i giorni Allora, avvertiamo i nostri amici che ci stanno seguendo a casa perché subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria non vi diremo a che ora prendere per esempio la pillola per combattere la pressione alta oppure l'antibiotico, a che ora lo devo prendere o ancora a che ora devo fare la mia prima colazione adesso siamo quasi, insomma, magari è questo l'orario della seconda colazione oppure a che ora devo cenare tutti questi consigli ce li darà il professor Maffredini subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria restate con noi Bentornati, bentornati in diretta siamo in compagnia del professor Roberto Maffredini direttore, insomma, professore ordinario di medicina interna all'università di Ferrara stiamo parlando di orologio biologico di come l'orologio influenzi tutta la nostra vita e soprattutto il nostro benessere c'è un orario per le medicine da prendere c'è un orario soprattutto per alimentarsi in maniera corretta iniziamo, caro professor Maffredini dai medicinali allora, a che ora dobbiamo prendere determinate medicine? ne abbiamo scelte alcune, devo essere sincera ce le spieghi meglio? diciamo che ogni farmaco ha il suo orario che è legato a varie considerazioni potrebbe essere legato alle caratteristiche del farmaco quindi quante ore dura nel sangue quindi alla farmacocinetica, come diciamo noi per cui, per esempio, l'antibiotico dobbiamo garantire lo vedo in grafica che abbia una concentrazione nel sangue sempre sufficiente ad uccidere i microbi quindi dobbiamo essere regolari ogni 8-12 ore a seconda di quello che ci dice le mie essere regolari altri, per esempio la tiroide hanno bisogno dello stomaco vuoto per poter essere assorbiti meglio quindi stomaco pieno, stomaco vuoto per l'assorbimento per cui stomaco vuoto i farmaci della tiroide stiamo leggendo in questo momento in grafica prima di colazione i farmaci, perché sono tante le persone in questo momento che ci stanno seguendo che purtroppo, ai noi, ad una certa età si prendono, assumono un farmaco per abbassare la pressione alta ecco, questo a che ora lo dobbiamo prendere? per l'ipertensione che come ha detto giustamente lei riguarda tantissime persone la grande maggioranza può assumerlo tranquillamente il farmaco e i farmaci per la persona al mattino se si tratta di farmaci a lunga durata cioè che siamo sicuri che coprono fino alla mattina successiva che la mattina è il momento a rischio cardiovascolare per le persone che hanno l'ipertensione anche notturna certe categorie di persone non cala durante la notte come cala nelle persone normali uno di questi farmaci è meglio portarlo alla sera per coprire anche il picco delle ore notturne succede però professore che ai noi tante volte proprio perché magari tante persone che ci stanno seguendo assumono tanti farmaci di dimenticarlo allora è giusto spostarlo, prenderlo quando mi ricordo o è meglio aspettare, non lo so magari sto pensando all'antibiotico all'orario successivo quando devo assumere i farmaci i semi li sono dimenticati allora saltare la dose mai quello è assolutamente sbagliato se si tratta di aver dimenticato il farmaco per la pressione viene in mente mezz'ora dopo un'ora dopo va benissimo e poi dopo si continuerà a rispettare l'orario originale per l'antibiotico se uno deve sbagliare piuttosto sbagli in anticipo una mezz'oretta prima piuttosto che dimenticarlo magari si fa addirittura anche una sveglietta o qualcosa perché ripeto la concentrazione del sangue deve rimanere costante Costante, lei ha parlato prima del farmaco contro i disturbi per la tiroide e deve essere preso a digiuno la mattina per gli altri farmaci anche in questo caso bisogna rispettare l'assunzione di cibo oppure no? Alcuni farmaci, proprio è richiesto anche sul foglietto illustrativo e lo spiegherà il medico devono essere presi a digiuno perché senza cibo vengono assorbiti meglio alcuni altri vengono consigliati dopo il pasto per esempio l'aspirina o gli antinfiammatori perché così l'effetto gastrolesivo si riduce perché è stomaco pieno per altre tipologie di farmaci ognuno ha un pochino la sua regola e attenzione alle interazioni fra farmaci questo è importante fra farmaci e alimenti interazione farmaci e alimenti farmaci tra loro ma immagino il medico di famiglia sarà sicuramente in grado ha studiato per questo di darvi delle indicazioni molto precise e da rispettare in toto proprio il nostro orologio è biologico adesso parliamo di alimentazione vorrei partire dalla cena perché c'è una disparità tra nord e sud Italia voi al nord cenate molto presto noi da Roma in giù dal sud molto tardi allora qual è l'orario giusto professore? dunque questo è sempre stato legato anche culturalmente anche al nord per esempio fra la città e la campagna quindi i nostri nonni mangiavano molto presto perché si regolavano a luce buio non è che c'è una regola meglio o peggio però ricordando alcune norme del buon comportamento dei ritmi biologici quindi almeno tre ore dalla cena al prendere sonno e il fatto che prendere sonno deve essere massimo fra le 23 e le 24 ma meglio se fra le 22 e le 23 ecco che accorciamo perché durante la notte il nostro organismo è fermo tutto quello che mettiamo rimane in grassi come fossimo il letargo quindi si è visto che mangiare molto tardi aumenta i rischi delle malattie metaboliche e l'obesità mi fa ridere perché poco fa abbiamo visto un articolo di qualche giorno fa del quotidiano della Repubblica che lo stiamo leggendo in questo momento in cui insomma gli americani a New York e a San Francisco soprattutto adesso c'è questa moda di mangiare alle 5 e mezza del pomeriggio anche in questo caso è troppo presto mangiare alle 5 e mezza del pomeriggio? Gli americani già noi li prendevamo un po' in giro perché cennavano alle 7 di solito e poi è venuto fuori che tutto sommato è un'ora anche positiva adesso l'hanno anticipata l'hanno anticipata prevalentemente per stare più tranquilli per la pandemia e non avere altre persone vicine però loro hanno sempre molto anticipato magari le 5 e mezza un po' prestino è per noi improponibile però per esempio in paesi abituati a mangiare molto tardi come la Spagna si stanno cercando ci sono delle campagne educazionali del Ministero e del Governo per anticipare un po' perché hanno una percentuale di obesità infantile elevatissima elevatissima perché mangiare troppo tardi fa male ci ingraziamo allora partiamo adesso invece dalla prima colazione c'è un orario giusto per consumare la prima colazione? Dipende dall'ora di sveglia e di lavoro naturalmente diciamo che fra le 6 del mattino alle 9 e 9 e mezza è l'orario corretto dopo basta perché ci stiamo avvicinando già all'ora del piccolo spuntino o del pranzo questo è importante però rispettarlo perché il suo libro che è bellissimo c'è tempo per ogni cosa un tempo per ogni cosa insomma lo ricordo questo libro però molti di noi sono allodole molti di noi sono gufi per cui anche questo bisogna rispettare il nostro orologio biologico professore l'importante è non saltarla mai perché chi pensa magari di risparmiare un po' di calorie saltando la colazione in realtà gli studi dicono che si ingrassa di più quindi diventa un'arma a doppio taglio e naturalmente poi l'orario ecco come diceva varia dal cronotipo che si sveglia presto però ecco chi si sveglia alle 11 insomma non è tanto fisiologico quella giornata ci sono delle persone che non riescono proprio a stare fermi con il cielo mangiano spessissimo soprattutto gli anziani che magari sono a casa sono da soli e fanno tantissimi spuntini è una cosa sbagliata oppure è una cosa che magari da consigliare per chi mangia poco a pranzo o a cena professore ecco ha detto giustamente se siamo certi che il pranzo e la cena sono molto leggeri allora gli spuntini possono essere consigliati già consigliamo sempre uno spuntino a metà mattina e a metà pomeriggio se però spuntini più pranzo e cena non va bene non va bene questo è importante adesso parliamo del sonno in questo periodo tanti di noi stanno subendo come dire influenze negative proprio su questo cambiamento d'orario perché anche dormire un'ora in più magari fa male alcuni di noi accusano il colpo quale consiglio possiamo dare per recuperare un buon sonno ristoratore in questi giorni con il cambio dell'ora c'è stato un po' di sofferenza perché viene buio prima e la sonnolenza viene prima quindi il consiglio è non fare se possibile non dormire il pomeriggio perché portiamo via ore al sonno notturno e nelle ore serali favorire l'illuminazione in ambienti molto illuminati se uno deve guardare il computer lo smartphone la luce blu blocca la melatonina non facciamolo di sera tardi notte però alla sera facciamolo perché così si porta avanti la melatonina e non ci si addormente alle 8 di sera e il sonno sarà un pochino migliore io sto pensando però alle persone di una certa età che da sempre hanno difficoltà nel dormire o vanno a letto troppo tardi e magari si svegliano anche tardi oppure vanno a dormire molto presto e si svegliano anche molto presto quale consiglio possiamo dar loro? di sicuro andare a letto troppo presto espone appunto svegliarsi in piena notte già gli anziani spesso di notte magari si devono svegliare per andare in bagno e quella poi non riescono a riprendere quindi magari consiglio delle luci non di accendere la luce grande per andare in bagno ma delle piccole luci di cortesia magari giallo caldo che è da poco fastidio in modo da poter poi riprendere il sonno altrimenti non ci si riesce assolutamente più il più possibile è andare a letto ad un'ora regolare e svegliarsi ad un'ora regolare quando possibile io le leggo adesso la domanda che ci ha fatto Nadia ci scrive da Caserta ci chiede è vero che i pisolini fanno male e vanno bene solo per i bambini? dunque in tanti bambini hanno bisogno di moltissimo sonno e non solo dei pisolini e i pisolini non fanno ma perché questo? perché producono più melatonina? no perché in crescita hanno molte più melatonina però il bambino il neonato che deve crescere tutte le funzioni del sonno sono decisive per la crescita per lo sviluppo man mano che diventiamo più anziani abbiamo bisogno di meno ore il pisolino no il pisolino se è un vero pisolino 15 minuti dopo aver mangiato va bene se diventa pennica non va bene non va bene a che ora l'orario è giusto per fare un po' di attività fisica magari adesso che sono le 10.21 può andar bene? dunque l'ora migliore se uno vuole guardare un po' l'orologio e andare bene è il pomeriggio sera le ore del pomeriggio perché l'adrenalina il picco del sistema simpatico alla mattina può andar bene per persone giovani che non hanno problemi la persona un po' sovrappeso con una certa età ecco il mio analogo per esempio se non corre la mattina è meglio perché la mattina abbiamo tutta una serie picco della pressione picco della frequenza insomma c'è qualche rischio cardiovascolare in più è meglio solo nel pomeriggio fare una moderata attività fisica però adesso daremo dei consigli perché no provate a fare questi esercizi magari oggi pomeriggio è vero